... ... In alto abbiamo la finale di 50 salito di Union Femmine Giorgio Bondani detiene regolo italiano 25-24 questa mattina lei ne è caserinto in bene con il giocamento delle qualificazioni 26-19 Voi! 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 E lei è caserinto con la 26-14 a dedicarsi a questa gara sull'istazione di 26-46 in pianti 26-46 in pianti 26-46